Catanzaro si sta dimostrando nei fatti il capoluogo della Calabria, lo ha detto il sindaco di Catanzaro Sergio Abramo nella conferenza stampa di presentazione del bilancio del primo anno del suo quarto mandato alla guida del comune. Oggi, ha spiegato Abramo, presentiamo tutta la programmazione che abbiamo messo in campo, una programmazione a tutto campo che va dai trasporti all'ambiente, dal sistema scolastico all'impiantistica sportiva, per arrivare alla cultura, tutto finalizzato alla città del futuro perché appena saranno realizzate tutte le opere. Catanzaro cambierà completamente volto, una programmazione importante che non sarà facile completare in quattro anni, ma, proseguita Abramo, siamo già in vantaggio perché molte opere sono state già appaltate, penso al sistema metropolitano di superficie o all'impianto tecnologico di Alli che permetterà di non avere problemi nella gestione dei rifiuti. Tra le programmazioni citate dal sindaco Abramo nell'incontro con i giornalisti, spiccano l'accordo di programma per 32 milioni siglato dal comune con la regione per il sistema dei parcheggi e della mobilità in città, con particolare attenzione al centro storico, il progetto Agenda Urbana per altri 32 milioni, il finanziamento per l'ammodernamento degli autobus cittadini, il recupero di importanti edifici storici per un loro riutilizzo anche a fini sociali e culturali, gli investimenti per il completamento e il rilancio e la valorizzazione del porto di Lido ed il bando per lo sviluppo in chiave turistica dell'area di Giovino. Ascoltiamo Abramo ai nostri microfoni. Il sindaco di Catanzaro presenta i risultati e soprattutto uno sguardo verso il futuro. Sindaco, intanto partiamo da ciò che è stato fatto durante questo primo anno di lavoro. Dice bene soprattutto uno sguardo al futuro perché oggi non presenteremo le attività dei singoli assessorati, perché quello è normale amministrazione, ma presenteremo tutta la programmazione che siamo riusciti a fare in questo anno di lavoro. È una programmazione che è a 360 gradi, che parte dal sistema dei trasporti, alla questione dell'ambiente, al sistema scolastico, all'impiantistica sportiva, a quella che definiscono la città del futuro, perché credo che appena saranno realizzate tutte queste opere Catanzaro cambierà completamente volto. Quindi credo che sia stato importante fare questa programmazione. Sarà più difficile magari seguirla per completarla entro i quattro anni, però siamo già in vantaggio perché moltissime cose sono state già appaltate, come per esempio la metropolitana di superficie o l'impianto, la discarica, l'impianto tecnologico di Alli, che permetterà alla città di non avere più problemi sul sistema dei rifiuti. Però siamo avanti sulla programmazione e oggi vogliamo mettere un punto fermo che Catanzaro è il vero capoluogo della Calabria perché lo ha dimostrato anche nei fatti, nella programmazione, perché alcuni settori che non sono stati toccati dagli altri comuni, capoluoghi di provincia, Catanzaro invece è riuscito a fare una programmazione, come dicevo prima, a 360 gradi. Ci stiamo occupando anche di materia che non riguarderebbero solo il comune di Catanzaro, ma tutti i comuni della Calabria. Grazie.